Ciao ragazzi! Quando cinema e natura si incontrano, il binomio che ne risulta è sempre fantastico. Sicuramente avrete visto qualche film di Tim Burton, ma avete fatto caso che le ambientazioni che sceglie per ogni suo set sono quasi tutte simili? Vi piacerebbe in qualche modo trovarvi a passeggiare in un luogo che magari per lui è stato anche fonte di ispirazione? Dai, sono pronta a scommettere che almeno una volta nella vita tutti voi abbiate visto almeno uno dei film che sto per elencarvi. Alice in Wonderland, Edward Mani di forbice, Batman o Dark Shadows. E sicuramente avrete notato che in qualsiasi di questi film compaiono sempre dei sentieri che sono fatati ma al tempo stesso spettrali. Dovete sapere che in Irlanda esiste uno degli angoli più magici del mondo, fonte di ispirazione proprio di registi del calibro di Tim Burton. The Dark Edge è infatti un intricato viale pieno di faggi, dall'aria misteriosa e al tempo stesso spettrale, che si trova nei pressi di Briga Galmoy a Ballimoney, ma sicuramente vi sembrerà di essere stati catapultati su uno dei set di Tim Burton. Nel corso degli ultimi 300 anni, gli alberi di faggio che davano proprio su questo viale si sono incurvati tutti quanti a creare quasi un sentiero magico, un sentiero fatato, incantato, ed hanno creato questo tunnel praticamente naturale, dove di giorno si creano dei fantastici spettacoli tra luci e ombre. Poi, prima del sopraggiungere della notte, in quelle ore serali, il luogo diventa misteriosissimo. Pensate che questo bellissimo viale ha avuto origine nel XVIII secolo, quindi tantissimi anni fa, grazie alla famiglia Stewart che ha creato e ha piantato questi filari di faggi, proprio per impressionare tutti i visitatori che si dirigevano verso l'ingresso della loro villa, la Grace Hill House. Questa casa è stata chiamata così proprio in onore della moglie di James Stewart, la signora Grace Lind. Due secoli dopo, quegli alberi sono ancora lì e comunque mantengono quel loro fascino austero e misterioso. Come ben sapete e come potete immaginare tutti quanti, attorno a questi luoghi fatati, misteriosi e magici, si creano sempre delle leggende. E anche attorno a questo viale se ne è creata una. Pare proprio che questa donna misteriosa appaia al tramonto, scivoli silenziosamente lungo tutta la strada, scomparendo poi all'altezza dell'ultimo albero di faggio. Alcuni dicono che sia il fantasma di una cameriera della tenuta, che morì, come di solito avviene in questi casi, in circostanze praticamente misteriose. E pare proprio che nella notte di Halloween la Grey Lady si unisca a tutte le anime tormentate che sono state seppellite vicino a lei, sfilando per questo sentiero. Oggi la Dark Age è una delle strade più fotografate al mondo, e i migliori momenti per visitarla sono o all'alba o al tramonto, per godere dello spettacolo migliore e soprattutto per non far uscire nelle vostre foto le persone che sono lì per il vostro stesso motivo. Per poter attraversare quei luoghi non ci sono biglietti da pagare e non ci sono soprattutto restrizioni orarie. L'unica regola da rispettare è quella di comportarsi in maniera civile rispettando questo fantastico posto. Forse non tutti sanno che questo particolarissimo angolo dell'Irlanda del Nord è stato scelto come location di una delle serie più viste di quest'ultimo momento, Game of Thrones, in italiano il trono di spade. Inoltre per tutti gli appassionati della serie dovete sapere che molte scene sono state girate addirittura nei luoghi circostanti. Non so voi, ma a me i luoghi a metà tra incanto e mistero hanno sempre affascinato. E a dire la verità non escludo nemmeno l'idea di andarla a visitare di persona. Chi di voi viene con me? Quindi ho aggiunto ufficialmente anche la Dark Edge dalla mia lista, ovviamente in coda a tutti gli altri luoghi che ho citato anche nei precedenti video, come ad esempio Chestnut Ridge e il Grand Canyon. Ah, e tra l'altro sono video che chiunque di voi si fosse perso può ritrovare nel nostro canale YouTube DLT Viaggi nella sezione dedicata alla mia rubrica. Per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito e se vi è piaciuto il video mettete un like. Noi ci vediamo alla prossima pagina della mia rubrica. Un bacione dalla vostra Mariarca!